Ho appena visto Calabria Terra Mia, documentario di Gabriele Muccino per pubblicizzare la regione nei circuiti turistici internazionali. E senza dubbio un cortometraggio maschilista e già per questo, all'estero, verrà escluso o immarginato in orari assurdi. Non si può iniziare una produzione di tal genere con una mano sulla gamba di una donna seduta accanto in automobile, scena che richiama una regione ferma da almeno 50 anni fa. A cosa serve pubblicizzarla così? Forse è questo il clima che Muccino desiderava rievocare, invitando turisti e viaggiatori stranieri a visitare una regione rimasta a dormire sotto il sole sin dall'epoca in cui l'uomo comandava e la donna obbediva. Insomma, il documentario è implementato in una sceneggiatura per nulla originale e in una colonna sonora che riportano al passato felliniano di Amarcord, da non confondere con la Calabria. Inoltre, pubblicizzare la Calabria attraverso il soggetto dei frutti è piuttosto banale. Desiderare un viaggio in Calabria per mangiare clementine e fichi appare folle per chi crede in questa possibilità. Far recitare Raul Bova, che esordisce col congiuntivo sbagliato, non appare licenza poetica. Salutare la vecchia vicina di casa, come se fosse in uno dei film del realismo italiano all'adesica, vuol dire non trovarsi in un contesto calabrese. Non ha senso rappresentare la Calabria priva di un sostrato originale che la faccia realmente desiderare a chi non la conosce. Per realizzare questo genere di documentari è necessario immedesimarsi in uno studio preventivo, esaminare gli elementi pregnanti che caratterizzano la regione e saperli esporre correttamente. eppure la regione ha mille aspetti ed elementi che la rendono diversa dalle altre. Escludendo la cura sulla loro qualità realizzativa, le immagini non sono belle, ne hanno alcunché di originale, per cui il documentario Calabria Terra Mia passerà del tutto inosservato e archiviato al modico costo di un miliardo settecento milioni di euro. A volte l'utilizzo dei grandi nomi calati dall'alto serve a realizzare un pessimo progetto come questo che, a mio parere, potrebbe essere ben pagato al massimo con poche decine di migliaia di euro. E non si può altresì realizzare un documentario di 8 minuti e 33 secondi con lo squilibrio di dedicare circa il 30% della sua durata ai titoli di coda, che neppure in un colossal si riesce a fare. Assurdo!